musica 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 sconto chiede una poca ma a Londuria sei che vanno vattuti 8 e mezzo non ricordo ma no era pomeriggio 4 e mezzo 4 e mezzo 5 4 e mezzo 5 che vanno vattuti i vaschi blu i vaschi blu il giuletto è così aspetta una volta ma ti andamme ma ti hanno tagliato pure le capiglie a barco a chiadone io ci hanno fatto dei capiglie pure barco perché stanno tutto per capo e tu cosa stai buono faccio forse faccio forse faccio forse non capito mi fanno male in quest'altro a me? a me no e che hanno fatto a te i papi ah io io pensavo e questo lo sai la sua stanno andorciata e i barati e tutto quanto vanno a mezzo tutto quanto è tutto quanto tutti i giorni tutte le giorni tutti i giorni tutte le giorni e stanno andando a fa' per tutte le ore mattoni eh 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 i guai da poter vestire da fuori c'è di quello che si va a prendere da fuori a favore ah un uore un uore ha detto con i depuraggi che manda i muliare va a stollare a fa' un uomo che mi ha mandato a nè non dovremmo a fa' c'è un uomo che mi ha mandato a nè non dovremmo a fa' c'è un uomo che mi ha mandato a fa' mandiamo un uomo a fa' voglio un mandaletto da un uomo hai capito? eh 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 forse forse no è un uomo che ho mandato si muove un uomo a loco hai capito? si è legista scendo e lui scendo non sei che non sei che mi si avremmo a scendire l'oro non è che scendo hai capito? non è rischia che mi si è tutto guante all'arico male mai quello stanno andate e la stagionate qua e s'è che c'è chiamato e se ci vediamo e se c'è un uomo che mi ha mandato tutto quanto, ormai anche se vuoi, anche se vuoi, ma è un po'. Ma è buono, comunque quando ho già chiamato, parlo, parlo sempre tu, parlo tu, parli che tu ti c'è. C'è l'avvocato che mi ha saputo ancora, è tutto ancora. L'avvocato ci sta mandando tutte le cose, parlo, non ti preoccupare, l'avvocato è troppo buono, guardi, mi ha chiamato già 20 volte, stammatini che stiamo là sotto, parlo, non ti preoccupare, troppo, non ti preoccupare. l'avvocato, andati. Ah, sturdi anche, questi non sono, non? Ho, io, erlo mi, quello, è lauchenica pillotabile, e entra nella finestra, ma mi haisperso, è vero, no, questo fa,erei che non si può! Ho, luogo è stato molto certo, ho la trainer sa blanya, ma l'ho, je stupone, siamo alleulas sp mediante delle cose suessi, ma solo nonhei, guarda quel Siamo arrivati a un altro metro e non se lo so. Ma non ci sono più qui. E quando si è venuto a casa, non lo so. Vabbè? 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 e dici la famiglia che stai sicuro a mangiare? non si sa niente, non si sa niente, niente non mi perché te ne vado non so a videochiamare, che stai a fare la videochiamata? lo so, hanno bloccato hanno bloccato perché te non dè? se me ne ha parlato alla lingua, sto in mezzo di videochiamata abbastardo che devi giocarci, la figata c'è battito tutto quanto fuori però loco forte è un giornale stammatì il giornale ha bloccato tutto che stai a occupare, i giornalisti, i giornalisti ha bloccato si, i jenani hanno chiamato, hanno chiamato i jenani si stanno a fare una barbara tossa mi stanno a fare una parte, così mi lèvvise e che stanno aspettando? sono le due libide, gli usci stanno aspettando i 5-10 ore, c'estavano le libide. se non leurerò le libide a tutto quanto? si stanno a fare la terra con i miei registrazioni i radii dei tenuti che non giocherano per lui hanno proprio qui adottato, guarda la visibilità parla tu parlo parlo, che te ne fanno? che te ne fanno? che te ne fanno? che te da? Non noi non abbiamo mai ricostato nel tutto il mondoide Non abbiamo mai ricostato che non si sbagliate Non ci sono stupini Ci sono state fatte con altri E ci sono state fatte niente Non ci sono state fatte Non c'è la mia vita Stupi Non c'è anche la mia vita E l'abbiamo Ma non è bello Sì Non è molto Non è molto Io ci sono E se la mia vita Voleva Dove Io ci sono Buongiorno Mi senti a dire, è passata da voi, mi sembra pure quello che successe a parlare. Ad un'ondaizia, non c'è a dubbio. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Mi starei. Mi vuole stare a casa, spesso, domani da ora. Non ti preoccupare, che sto faremo tutto così. Mi guardano che noi siamo figli di brava gente, ma non siamo figli di feste però. Eh, non c'è tutto il tribunale, ma il posto del tuo tribunale, mi interessa. Sì, non c'è nessuno. Ma io ringordo, mi senti a dire che io mi senti, non ho fatto che io mi sento sempre male, mi senti. No, non ti preoccupare tanto. Eh, non ti preoccupare. Non ci senti? Non c'è sotto, io stai senti, dalle persone che si apre che si andava qua, stava in compienza la pallina, nocaste. Stava in compienza, stava in compienza. Stava in comp Liliana? Maginata. Hai la vittima, ma non c'è ancora, quindi non c'è ancora. Non c'è ancora più che non c'è ancora, ma non c'è ancora, non c'è ancora ancora. Non c'è ancora più che non c'è ancora. Ci senti sempre, è ancora più che non c'è ancora. in passare la sabita sai dire che era sempre più vorremente o quello per fare, ma è un anno eh, sempre e io eh, niente non èuembo, è un po' che Рer futura ma rimasta e si non ancora la vista che è successa in questa situazione ma anche è possibile in questa situazione ma è una quando mi si metcia non mi si metcia non mi si mette tutti i giovani mi si metterà vedi più è un po' che città a tutti i città non esistiamo niente, non esistiamo niente, non sei più un galera, non sei più un detenuto, ma un prigioniero ormai, che passare un detenuto a prigioniere, è una bella differenza. E' un po' lontano, Giacomo, hai trovato la porta, almeno ti faccio vedere un po' che ti riguarda. E' un'altra cosa, l'altro è una cosa, ma l'ho andata tutta una, per tre minuti, tre minuti puntata. Devo stare a molleggiare la porta. E' stato venuto in base. ma non ci preoccupare questo buono, è giù l'erbo che mi è tutto lì ma non ci guarda qua, non ci guarda qua, non ci guarda qua, non ci guarda qua ma non ci guarda qua, ciao A presto